La decisione di prolungare a tempo indeterminato l'innalzamento delle misure di sicurezza è stata comunicata dalla SAC, la società che gestisce l'aeroporto catenese. Come già avvenuto durante questi ultimi giorni, quindi l'accesso al terminal sarà consentito soltanto ai viaggiatori muniti di biglietto aereo cartaceo o di carta d'imbarco, sia cartacea, quando si affettua il cerchino online, che digitale con la carta d'imbarco visibile su smartphone o tablet. Nessun accompagnatore potrà accedere all'interno dell'aerostazione. Non sarà possibile nemmeno accedere con mezzi privati alla rampa delle partenze per accompagnare i passeggeri, accesso consentito soltanto ai viaggiatori con disabilità, ai taxi e alle auto a noleggio con conducente, oltre che agli autobus e ai pullman. Pulmini navetta di bus operator si fermeranno prima. Nei quattro parcheggi dell'aeroporto la sosta gratuita viene in ogni caso aumentata a 30 minuti. Intanto la polizia è arrestato quattro cittadini albanesi in procinto di partire per Londra. Avevano carte d'identità falsificate e sono stati scoperti ai check-in. Bloccati anche due nuclei familiari iracheni appena sbarcati da un volo proveniente da Istanbul. Erano in possesso di documenti l'identità spagnoli contraffatti.